Ciao ragazze, allora questo è il mio primo video tag e diciamo anche se è stupido perché comunque basta essere sani per essere belli ho deciso di farlo perché è un modo per farmi conoscere perché io non sono una ragazza, lo dirò 10.000 volte ma io non sono una ragazza che se lo crede infatti diciamo per trovare le tre cose che mi piacciono di me stessa ce l'è voluta un video tag, un video dove si rispondono a delle cose e in questo video io dovrò elencare le tre cose che non mi piacciono di me stessa le tre cose che mi piacciono non fate caso alle orecchie e al trucco diciamo un po' così ma è il video della collaborazione con McQueenific e ve lo metto da qualche parte comunque allora, che cosa non mi piace? uno, non mi piacciono i miei denti sono storti, sono brutti e diciamo dovevo mettere l'apparecchio non l'ho messo e si sono diciamo fatti in questo modo perché sono usciti i denti del giudizio e dovevo mettere la macchinetta e alla fine non l'ho messa quindi cioè, sono brutti ed è uno dei motivi per cui non mettevo rossetti poi ho iniziato a conviverci e alla fine sto mettendo i rossetti due, questi qua li odio cioè, sono pochi sono, allora, il fatto che siano lunghi il maschera questa cosa però ho capelli, cioè non è che sono pochi sono sottili, sono molto sottili e altra cosa che non mi piace è che sono lisci lisci, troppo lisci cioè, così, ragazze, considerate che io non passo piastra quindi sono davvero troppo lisci e quando devo farli ricci, mossi, con il ferro adesso sono la bellissima e più o meno escono però di solito mi durano un giorno un giorno quando mi va bene altrimenti sono un paio d'ore quindi sono davvero troppo lisci la terza cosa diciamo che ero indecisa tra il naso e la pelle il naso, diciamo, mettiamolo come quarta cosa anche se non dovrei però è tutto storto non lo so è un patata non mi piace il mio naso però diciamo che come terza cosa vi elenco la mia pelle che è piena di froncoletti sotto pelle cioè questa cosa è grassa è una pelle grassa e infatti in uno degli ultimi video una ragazza me l'ha detto e io non sapevo che dirle perché fondamentalmente io ho fatto davvero molte cure per la mia pelle e non c'è niente a fare la mia pelle continua a cacciare sebo e cosa peggiore ci sono i pori molto dilatati con tutto che uso tonici dilatati e questi foruncoli sotto pelle quindi è bruttissimo ragazzi è brutto infatti vedo spesso ragazze su youtube che hanno la pelle così liscia quando fanno quegli zoom ma io invece tengo tutta sta pelle ok adesso passiamo alle cose che ci piacciono che mi piacciono prima cosa che mi piace di me sono i miei occhi vabbè sono i miei occhi sono azzurro verdi un colore abbastanza particolare e mi piace anche la forma dell'occhio seconda cosa che mi piace di me sono queste le mie mani che sono abbastanza lunghe e diciamo anche se il colore non è che mi piacciono le mie mani perché il colore va sul giallo e la mia faccia va sul rosa il che non si è ancora capito come mai comunque si sembro una simpson comunque queste qui sono le mie mani mi piacciono perché sono lunghe terza cosa che mi piace di me sono andata a scavarla come cosa perché fondamentalmente non sapevo cos'altro poteva piacermi ed è la forma del mio viso alla fine non mi dispiace è una forma abbastanza regolare non faccio grandi contouring a volte quindi la trovo abbastanza regolare anche se c'è un po' di peppagord e niente ragazze spero che il video tag vi sia piaciuto di non avervi annoiato di solito non faccio video tag per non annoiarvi fatemi sapere quali altri video tag volete vedere e se vi va fatelo anche voi e mettetelo qua sotto come video di risposta vi mando un grosso baso vi mando un po' di più vi mando un po' di più vi mando un po' di più attravo